Ehi ragazze, ma siete sveglie? Ho passato tutta la notte a studiare il manuale del mixer. Nei a preparare la lezione, ma adesso sono più tranquilla. Intanto sono delle matricole, faranno tutto quello che dico. Giusto? In fondo Maggie non è stata in grado di fare la vicepreside perché dovrebbe riuscire a fare l'insegnante. Speriamo non combini un pasticcio. Maggie? Tutto ok? Bene, bene. Forza Maggie, tu hai il dono. Ok, vai, ok. Vai. Ah, ok. E non hai bisogno di nient'altro? Buongiorno ragazzi. Buongiorno professoressa. Comodi, comodi. Io sono Maggie e oggi sarò la vostra insegnante. Un applauso alla nostra professoressa. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Maggie. Sappiamo chi sei. Sei quella che secondo il preside non avrebbe dovuto farci lezione. Ho sentito tutta la scuola. Quanto è chiaro. A che pagina siete arrivati con storia della moda? Ho bisogno immediatamente di una strategia di fuga. Ho bisogno di aiuto. È occupato? Maggie? Maggie? Si può sapere che stai facendo? Mi sto nascondendo da quei mostriciattoli del primo anno. Davvero? Ma non pensavo che i mostriciattoli potessero iscriversi in accademia. E che sono? Vampiri. Maggie non è un buon piano. Sì che lo è. Non puoi stare nascosta per sempre. Ma infatti non è per sempre. È solo fino alla fine della lezione. Goblin? Urchi? Oppure troll? Maggie? Maggie? Edu, non sono dei mostri veri. Sono solo i ragazzi del primo anno. Sono molto, molto cattivi. Irrispettosi e indisciplinati. Preferivo fossero mostri veri. Anch'io. Senti Maggie, se qui c'è qualcuno che può farcela, se tu... Tu sei la migliore. Risparmiami anche tu il discorso motivazionale. Ok, siamo pratici. Non sai come fare? Copia. In che senso? Fai la micola simpatica tipo il professor Falkes e vedrai che li conquisterai. Dici? Non so, io forse farei più come la professoressa Tucker. Terrorizzali! Edu, sei in serio. Maggie non sarebbe in grado di terrorizzare nessuno. E perché? Come non detto. Visto. Vai e stendili. Ok. Sono la mia preferita. Vado? Ciao a tutti. Siamo Maggie e Bianca. Seguiteci sul nostro sito ufficiale, canali YouTube e profili social. E non perdete neanche un aggiornamento. Ne un hashtag. Così, come schimpate Cicchi. Ciao a tutti. Tiziamo buona parte. Tiziamo la mia choix. One day I'll find my place One day I'll make you take